Trasformare un immobile in stato di abbandono e pericolante in un centro dedicato ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché in uno stabile utile ad ospitare l'attuale mensa di Piccianello a Matera. E' la proposta lanciata dall'Associazione Città Plurale che ha presentato una lettera aperta inviata ai presidenti della Giunta regionale Marcello Pittella del Consiglio, Piero Lacorazzi e i consiglieri regionali facendo propria una vecchia istanza della parrocchia Maria Santissima annunziata con una richiesta ufficiale. In particolare l'Associazione chiede la concessione in comodato l'uso o in altra forma di concessione dell'edificio attualmente di proprietà dell'Agenzia Lucana per l'innovazione in agricoltura, così da dotare il quartiere e la città di spazi funzionali da destinare alla mensa delle persone indigenti e di altre problematiche sociali per diverse fasce di età, inoltre servizi contro il disagio e di aggregazione per i cittadini. Il recupero dell'immobile sarebbe a totale carico della parrocchia. Un'eventuale alienazione dell'edificio in gravi condizioni di degrado non inciderebbe sensibilmente sul bilancio regionale.